Ha negato di avere maltrattato ripetutamente la moglie, precisando di avere avuto con lei solo delle liti occasionali, in cui entrambi avevano finito per alzare le mani. Si è difeso così nell'interrogatorio sostenuto davanti al Gipsanti Bologna, il 33enne San Cataldese residente a Caltanissetta attualmente agli arresti domiciliari e che era stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri, dopo che la moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti. L'indagato, rispondendo al Gipsanti Bologna, ha anche precisato di essersi riappacificato con la consorte, tanto che i due erano tornati a vivere insieme, aggiungendo di volersi sottoporre a un programma di recupero, visti i problemi di tossicodipendenza. Proprio questi problemi, secondo l'accusa, erano alla base dell'elite in cui l'uomo avrebbe maltrattato e insultato la donna, ripetutamente, visto che quest'ultima non gradiva certo che il consorte facesse uso di cocaina. L'avvocato difensore Riccardo Palermo, al termine dell'interrogatorio, ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari o l'applicazione di una misura più lieve. Il Gip prenderà la propria decisione nei prossimi giorni, dopo aver ascoltato il parere della PM Vera Giordano, titolare dell'indagine.